Mancano meno di due mesi in Toscana al fatidico switch-off, cioè a passaggio completo della televisione al digitale terrestre, quello che molti a ragione hanno definito un cambiamento epocale. Il Consiglio regionale ha approvato, praticamente all'unanimità con una sola astensione, la legge che prevede tutta una serie di misure per supportare questo delicato passaggio. Un passaggio che riguarderà in primo luogo le televisioni locali, che dovranno in qualche maniera adeguare i propri impianti di trasmissione dalla precedente tecnologia a quella digitale. In secondo luogo, evidentemente riguarderà gli enti locali, i sindaci, per tutte quelle aree della Toscana nelle quali sarà difficile immediatamente portare il segnale digitale e quindi gli investimenti devono essere fatti. Infine, un'informazione soprattutto alle fasce deboli, in modo tale che la legge prevede che vengano coinvolte le associazioni, le associazioni dei consumatori, per far sì che questo passaggio sia il meno indolore possibile. La Regione ha stanziato per il momento 1.050.000 euro, dei quali 700.000 euro andranno a sostegno delle TV locali per l'adeguamento tecnologico dei propri impianti e 300.000 andranno agli enti locali per fare arrivare il segnale nelle zone più difficili. Si tratta però soltanto di un primo passo. Abbiamo fatto un ordine del giorno che invita la Giunta a reperire ulteriori risorse, perché evidentemente noi riteniamo che queste risorse possono essere un primo contributo ma che necessita ancora di essere implementate per dare maggiore forza e maggiore sostegno alle televisioni ma anche ai territori in questo momento di difficoltà. Una volta che saranno resi noti dal Ministero dello Sviluppo Economico i soggetti che avranno le frequenze, verrà pubblicato dalla Regione il bando per accedere ai finanziamenti.